Io faccio dei programmi nella mia testa che poi vanno miseralmente a quel paese, quindi fa così. Loro in teoria non ci sono, poi ci sono, poi nel video tagliamo la parte, non è loro. The showman, no? No, è fantastica perché io penso che sia grazie a persone come te e come Luca e altri che gli psicologi lavorano di più e che le persone riescono anche ad accedere di più. Sai la statistica che tra il 60 e il 90% delle persone avrebbero bisogno di psicoterapia? Non vanno mai da un professionista della salute mentale, vanno dal parrucchiere o dall'amico o dalla nonna. E quando tu mi hai detto, mi hai raccontato, che poi con l'innocenza con cui mi raccontano, mi hanno chiamato la Skype, boh, vediamo, no? E poi tutto quello che c'è stato dopo, la radio, io non ho il televisore, quindi non lo sai, le cose che fai fino a il libro. C'è questo mondo. Raccontami un attimo dal punto di vista dello psicologo, Gerry, no? Com'è? Cioè com'è successo tutto questo? Un po' come è successo, un po' come te lo vivi tu. Immagina, non so come spiegarti, immagina che tu devi raccontare da Gerry psicologo, quindi tu che ti immaginavi magari nel tuo studio a vedere pazienti vita naturale durante all'avere una cosa che magari, quanto ho capito, per te era inaspettata, veramente inaspettata. Ma in realtà non è proprio così, perché io fin da subito avevo questo trip del palcoscenico, ce l'ho sempre avuto. Vabbè, tu suonavi… Proprio perché suonando avevo sviluppato l'interesse nei confronti della performance in qualche modo. Tu quando io facevo la radio, Radio Punk, tu mi mandassi, non so se tu… Il CD. Il CD, Justin Dask. Ne abbiamo parlato, ti ricordi? Sì, sì, è vero, è vero. E quindi comunque sia l'interesse nei confronti di qualcosa che avesse a che fare anche con una performance, c'è sempre stato. Poi ovviamente sui social tutti noi siamo, come dire, sovraesposti e la sovraesposizione che avevo su Facebook mi ha portato a essere chiamato poi dalla produzione del programma che ho fatto e delle altre cose che ho fatto successivamente. E questo per me non è spiacevole e né inaspettato in realtà, perché comunque mi mette alla prova e mi mette davanti ai miei limiti, perché io sono una persona molto timida in realtà. E quindi fare tutte queste cose così sovraesposte mi mette veramente davanti a qualcosa che per me è molto difficile. L'ho sempre fatto e questo è un insegnamento in qualche modo che potrei forse passare. Mettervi in difficoltà, quello che dicevo anche nella presentazione del libro, vuol dire questo, vuol dire fare quello che è un po' contro la tua natura. Sfidati un po'. Per me, lo cito anche nel libro, un professore del liceo mi obbligò a fare una parte in uno spettacolo teatrale e per me era un incubo in quel momento fare questa cosa, però a me è servito tantissimo. Io da lì ho capito che potevo farlo, che era possibile anche per me che mi vergognavo anche alzare la mano e fare una domanda, era possibile farlo con fatica magari, con molta più fatica che per gli altri che magari avevano già l'istrione dentro di sé. Per me era molto difficile, ma è stato assolutamente formativo e mi diverte mettermi in situazioni sempre più difficili. Tu non hai assolutamente la dissonanza che hanno molti colleghi quando ti guardano, che dicono, almeno nella loro mente, a volte ahimè, con male parole anche esplicitamente, e sono colleghi, che dicono, ma cavolo, tu fai lo psicologo, devi vedere i pazienti, non puoi fare lo show X, eccetera. Tu invece, la mia sensazione è proprio una naturalezza. Poi perché non dovresti poterlo fare? Metti al servizio delle persone, delle tue competenze in un modo diverso a quello canonico, oltre al modo canonico del vedere i pazienti, no? Molto francamente me ne sono sempre un po' sbattuto di questi discorsi, detta proprio quando ho iniziato a usare la pagina Facebook, all'inizio, era veramente tanti anni fa, alcuni nostri colleghi mi scrivevano dicendomi, ah ma perché, ma cosa fai, pubblichi le cose su Facebook, siamo psicologi, non puoi farlo, addirittura, sei mesi dopo tutti avevano la pagina. Certo. E quindi, boh, io non ci vedo niente di male nell'utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione per divulgare il nostro lavoro, quindi non ci vedo nessun tipo di limitazione. Poi, a me da piacere, mi piace, non credo di infrangere nessun aspetto che abbia a che fare con l'etica, o perlomeno con la mia etica. La tua formazione, sai, quello che studiamo ci forma, la nostra formazione ci forma, la tua formazione sia come psicologo, sia come terapeuta strategico, che input ti dà, che teatro, radio, eccetera. Diciamo che tutto quello che ho fatto, che ho studiato, mi ha permesso di fare il lavoro di psicoterapeuta e, avendo fatto tante cose molto diverse, questo mi ha permesso ancora una volta di declinare, a seconda dei vari contesti nei quali mi sono trovato, quelle che sono le mie competenze. Ovviamente avere a disposizione la brevità come skill è qualcosa di utile in un contesto come quello televisivo, dove hai dei tempi molto veloci, devi dare dei concetti semplici, comprensibili, possibilmente anche interessanti. Non è semplice, alcune persone sicuramente criticano questo, dicono, ma te vai lì a dire dei concetti psicologici banalizzandoli per certi versi, però questo fa parte un po' del gioco, un po' come se vogliamo fare un parallelismo con la musica, la band che inizia a fare pop e che prima faceva musica alternativa. È una scelta, a un certo punto puoi anche decidere di cercare di raggiungere più persone possibili e in quel caso allora usare un certo tipo di linguaggio che sia più accessibile è la strada che devi seguire. Un'amica che suonava al pianoforte musica classica, non mi ricordo, è decontestualizzata la frase, però disse ecco la vera musica, la vera musica era la musica classica, che vuol dire vera musica, perché il punk non può essere una vera musica, ha delle funzioni diverse, vuoi manifestare qualcosa di diverso, quando sento le critiche, quel programma televisivo, hai banalizzato, perché quello non è il tomo di 400 pa, William James più citato, c'era più volte in queste serie, è un'altra cosa, ha un'altra funzione, è incredibile che poi queste critiche vengano dai colleghi, però non facciamo polemiche, se no facciamo noi il talk show che non mi interessa, i tuoi pazienti arrivano con, questa è una curiosità mia, con delle aspettative diverse, ti ho chiesto un po' come la psicologia e la psicoterapia hanno influenzato il tuo lavoro nello show, il tuo lavoro nello show influenza in qualche modo il tuo lavoro da psicoterapeuta, c'è pazienti che hanno con delle aspettative? Beh, chiaramente se ci sono delle persone che sono molto affezionate magari a un programma televisivo che ho fatto e arrivano lì hanno già una predisposizione di un certo tipo nei miei confronti, perché un po' mi conoscano già, quindi si sono già un po' affezionate a me o al mio modo di parlare, ai concetti che cerco di passare, quindi si parte già con qualcosa che ha a che fare con la vicinanza, quindi è più semplice entrare in sintonia, questo è l'aspetto che ho notato negli anni, ecco, le persone che arrivano e che già ti conoscono in qualche modo sono meglio disposte ad accettare delle indicazioni, a fare un percorso con te, ad esempio l'altra settimana sono venuti due ragazzi a fare una terapia di coppia che non mi conoscevano, sono arrivati praticamente per caso e si aspettavano tutt'altro, cioè loro erano venuti lì, probabilmente si immaginavano una sorta di psicoanalisi, una roba del genere, quando io ho spiegato un po' quello che faccio abbiamo concordato insieme che non aveva senso proseguire, perché non conoscevano nulla, per niente, zero assoluto e quindi in quel caso lì non, ad esempio il fatto che non mi conoscessero è diventato un elemento che ci ha portato a decidere insieme di non iniziare neanche, ecco. E il contrario, persone che ti conoscevano e magari sono rimaste deluse o spiazzate perché ah ma io mi aspettavo un'altra cosa perché nello show... Questo non è capitato, potrebbe succedere, però non è successo, è successo che venissero già ben disposti a iniziare un percorso sapendo un pochino qual era la direzione, insomma, quindi avere già delle informazioni prima secondo me è utile e anche a me magari rassicura sapere che la persona già si è fatta un minimo un'idea di quello che può succedere, poi ovviamente ogni terapia come sai è qualcosa di unico e ripetibile, quindi ci sono poi degli elementi che sono calzanti sulla persona e che quindi non sono descrivibili in nessun modo, in nessun sito, in nessun articolo o altro, però comunque delle linee guida che comunque faccio terapie tendenzialmente brevi, che uso l'ipnosi e l'approccio strategico più o meno uno secondo me lo deve sapere se viene. Tra un po' ti chiedo un po' di più come fai la psicoterapia tu, però declinando un pochino ulteriormente il discorso dell'influenza dello show, adesso quanto saranno cinque anni che sei più o meno, oddio poi se prendiamo da quando cavalchi i palchi, la televisione televisione, ok. Ti ha influenzato in qualche modo nel modo di fare psicoterapia? Sì, penso di sì, perché comunque come dicevo prima stare davanti alle telecamere in certi contesti è anche abbastanza impegnativi da un punto di vista proprio di produzione, di stress anche, di performance, perché parlare in un certo modo con tante persone intorno che ti guardano le telecamere, insomma non è semplice, soprattutto se non l'hai mai fatto prima e soprattutto se sei un po' timido di fondo non è semplice. Farlo mi ha reso più sicuro da un certo punto di vista e anche poi probabilmente anche nel rapporto con i pazienti ha avuto un'influenza, cioè mi sento molto più sicuro di prima, avendo fatto l'esercizio diciamo della televisione come se fosse stato una sorta di autoprescrizione che mi sono dato, che è poi anche l'esercizio di fare dei video, probabilmente anche tu che fai molti video, facendo video ti accorgi che certi aspetti della tua comunicatività si modificano, cambiano, migliorano, quindi inevitabilmente poi lo utilizzi anche in altri contesti come quello della psicoterapia. È vero, è vero. Forse uno dei più importanti insegnamenti che mi ha dato il video è stato il fatto di fare, di fregartene, di giudizi di quello che ti possono dire, eccetera. Non so se questo possa aver influenzato il mio modo di fare psicoterapia, forse sulla naturalezza, sull'essere più sciolto. Io ti ho conosciuto prima, da parte come chitarista, ma prima dei video, ci siamo fatti quell'anno del master in ipnosi. Anche sì, alla scuola di psicoterapia. Alla scuola di psicoterapia, forse ci siamo incrociati un po' meno, però sì. E quando qualcuno mi chiede di, ma conosci Jerry, io dico Jerry è così, come lo vedi? Non c'è una maschera in tv. Poi io dico così, ma io non ho la tv. Magari ho visto qualche video, perché per curiosità mi sono visto anche l'altro programma. Wishlist. Sì, Wishlist, esatto, carino. Che mi hai mandato tu un link, credo. E sai così, no? Sei tua, è la spontaneità, la naturalezza. Ed è bello, perché nella psicoterapia, ne parliamo prima con Bernardo, anche l'essere autentici, l'essere se stessi. Ho avuto persone che mi hanno insegnato in maniera diretta, indiretta, ma anche con le migliori intenzioni di efficacia terapeutica a non essere proprio te stesso. Devi essere un po' diverso da te perché funziona meglio, perché crei l'effetto suggestivo che può aiutare, non so cosa, nella psicoterapia. E invece a un certo punto il dirsi anche, anche avendo vari certi esempi, il dirsi, oh ma io sono così, come Federico, io voglio andare con i pantoni strappati, io mi voglio spostare sulla sedia, io non ce la faccio a stare così, mi sento male. Mi è permesso, a mio parere, di migliorare anche il lavoro con i pazienti. Per te è stato un qualcosa di simile, questa acquisizione di sicurezza, dell'essere te, perché tu sembri proprio, io che ti uno dico sei tu, ma anche Dante alle telecamere. Io credo che non sia possibile il contrario, non credo di poter essere un'altra persona diversa da me, a meno che non inizio a pensare di essere schizofrenico, cosa possibile tra l'altro. Però a parte questo, non ti mascheri? No, ovviamente noi usando degli approcci strategici andiamo inevitabilmente incontro a, mentre parlo con una persona penso a mille cose insieme, quindi a cosa dire, come dirlo, quale strategia usare. Quindi in quel momento inevitabilmente sto costruendo qualcosa, ma che comunque appartiene a quello che è il mio bagaglio, il mio repertorio. Ecco, non è che faccio qualcosa che sia così lontano da quello che mi sento di fare in quel momento, ecco. Lo metti al massimo quello che costruisci di nuovo al servizio di quello che devi fare, così come se... Diciamo, lo sforzo di spostare l'asticella lo faccio fuori da lì, cioè nelle esercitazioni che faccio, nelle autoesercitazioni, nelle esperienze che faccio. Poi quando sono lì metto magari un passo indietro tutto quello che conosco e che lo faccio lì per lì. Poi dopo fuori da lì mi esercito e miglioro, mi metto più alla prova. Lì vado più sul sicuro, ecco. Mi muovo in un campo che conosco meglio e che mi sento di poter gestire con più naturalezza, appunto. Io feci teatro l'anno e mezzo e il mio maestro mi disse che Favino, lo vide una volta recitare Favino, e gli vide fare questa cosa. Nella prova, lui doveva fare una scena dove si arrabbiava, faceva questa cosa esplosiva, esagerata, così. Dopo averla fatta, gli so che ora sono pronto. E quando poi andò a fare il ciak, era molto più controllata, ma arrivava tutta quella potenza, quindi era molto più naturale, però trasudava la rabbia. Però un po' meno magari di quando lo faceva in esercitazione. Sì esatto, a livello di gesti, però poi c'era quello di cui c'era bisogno. Arrivava la rabbia senza dimostrarti, senza mostrarla, no? No, senza dimostrarla, la mostrava e basta. Cosa fai in psicoterapia? Perché tu, secondo me sei molto come Federico, nella mia testa, no? Sei molto sanguigno, nel senso non cattivo, nel senso di pancia, di sintonizzazione con la persona, hai detto hai mille cose in testa, però non mi hai l'idea dell'essere, mi seguo la scaletta, o che ne so, il programma, ma segui molto il flusso, quasi molto teatrale, no? L'improvvisazione, eccetera. La mia idea, non ti ho mai visto fare una psicoterapia, ho detto che verrò un giorno, ho detto cinque anni fa, insomma, eh sì verrò, però ti preoccupare. Cosa fai quando arriva un paziente? Gli guardo le scarpe. Gli guardi le scarpe? Perché gli guardi le scarpe? Si capiscono un sacco di cose dalle scarpe delle persone. Si capiscono un sacco? Io aspetta, perché questo mi hai fatto appena adesso ricordare quella volta che io pubblicai sul mio Facebook una foto di le nostre due scarpe, stavamo così vicino, sulla mia, sul mio profilo Facebook e le ragazze a te iniziarono a dire, ah Facebook, ah Gianni tu sei quello di destra, io non riconosco le tue scarpe, a me si farò un cazzo di nessuno. Vabbè, comunque, a parte questo, come gli guardi le scarpe? Si, la prima cosa che faccio è guardare le scarpe. Cioè piacere, dottor Jerry Grassi? Si, appena entra gli guardo le scarpe, quando arriva lo vedi le scarpe A. Ok, e cosa poi vuoi dare? Fantastica. Non lo so cosa faccio, però. Ma guarda le scarpe di un mio paziente. Secondo me capisci un sacco di cose dalle scarpe e dalle mani delle persone. E dalle mani, quindi gli guardi le scarpe e le mani? Si. Ok. E poi gli dico una frase di rito, quella è uno schema, cos'è che ti porta in questi postacci? Cos'è che ti porta in questi postacci? E così è vero se scherzano, se se la prendono. Mi piace. Cioè se una persona ride, non è un postaccio, già capisci che la vive in un certo modo. Se invece ti dice, effettivamente sto molto male, è già più un autocommiserativo e quindi già vai in una direzione. Capisci già un po' dove si va a parare. Cosa si capisce dalle mani? Come le muove, faccio fatica a spiegare come per le scarpe cosa mi dice, però qualcosa mi dice. È quello che è che questa Francesca, Francesca Moccia, stava con te al CTS durante gli anni di formazione. Sì, mi ricordo. E una volta, e lei è molto così, in una maniera ammirevole per me, perché è molto tecnica, mi piace. È un'altra docente della scuola, peraltro. E una volta stiamo facendo un confronto e le dissi, ma come hai fatto a capire questa cosa di questo paziente? Lei mi disse, a sensazione. E io lì non avevo capito niente, perché se una come Francesca mi diceva, una super tecnica, mi diceva di usare la sensazione, ok, c'era qualcosa che poi iniziai a sviluppare, esercitare. E questa è l'idea che mi dai tu, no? Non te lo so spiegare, mi dici, ma è quello che fai. E mi hai appena detto che la prima cosa che fai quando, le prime cose che fai quando arriva la paziente, il paziente è la radiografia, cioè capire chi è, capire cosa puoi fare, capire i gradi di movimento. Beh, io penso che comunque se ha scelto di mettersi per le scarpe, un motivo c'è. Se ha scelto di tenere quei capelli e non rasarseli a zero, un motivo c'è comunque. Poi non so interpretarlo psicoanaliticamente, però qualcosa mi comunica in quel momento lì, no? Ti sei nuovo, certo. Mi dà un'idea, mi dà un'idea che poi magari è sbagliata, magari parlando capisco che boh, io mi ero fatto un film che era totalmente fuori rotta, però comunque qualcosa mi arriva lì per lì, lo guardo. Io credo che il più grande insegnamento di Erickson sia quello che quando gli chiedevano cosa devi fare, quando hai un paziente davanti, lui diceva devi saper fare tre cose, osservare, osservare, osservare. E quella è la legge secondo me. Ecco, quindi guardando le persone come si muovono, come si comportano, come stanno, che fanno, non andando nella direzione dell'interpretazionismo, ma in quello che è la sensazione che mi dà a me in quel momento. Quindi più gestalt se vogliamo. Ma è fantastico. Peraltro io mi sono sempre chiesto, di fronte a quella cosa di Milton Erickson, osservare, osservare, osservare cosa? Io non lo so, le scarpe e le mani. Le scarpe e le mani sicuramente. Ok, ok, fantastico. Prima le scarpe e poi le mani. Prima le scarpe e poi le mani. La sequenza è questa. Ok, ok, lo farò così, perché io sono così e quindi devo farlo in questo modo. No, ok, ok. Poi? E poi si inizia a indagare un po', quindi ovviamente in quel caso lì entrano in gioco tutte le varie formazioni che ho fatto e quindi posso usare più un approccio legato alle domande, quindi di tipo strategico, oppure come diceva anche Bernardo prima, anch'io vado in direzioni un po' lontane da quelle del campo della psicoterapia. Io ho utilizzato a volte anche i tarocchi stessi di Jodorowsky per dire, senza anche in quel caso andare nell'interpretazionismo, ma semplicemente usarli come modello narrativo. Cioè ti faccio vedere un'immagine come se fossero il TAT, dimmi cosa ne pensi. Ok. E quindi in qualche modo discutere con la persona attraverso delle immagini o qualcosa che mi viene da fare a me in quel momento lì. Magari la persona mi parla, io disegno qualcosa, faccio dei disegnini e faccio delle barchette spesso. Allora magari parliamo del perché ho fatto quello, secondo lui, perché ho fatto quelle barchette. Fantastico. Oppure se mi annoio glielo dico, perché comunque questo aspetto di dire quello che sento ho imparato che mi fa bene, mi serve dirglielo. Cioè se mi sto rompendo le palle glielo devo dire. Cioè non posso far finta di… Come reagiscono i clienti? Ridano di solito. E tutto questo lo fai con l'obiettivo di… cosa vuoi far fare al cliente? L'obiettivo è quello di creare dei piccoli shock continui. Ok. Quindi nella comunicazione… cioè per me fare la terapia deve essere un'esperienza unica e ripetibile che si portano dietro per tutta la vita. Non deve essere una chiacchiera normale. Deve essere una roba che va via e dice che cazzo mi ha detto questo. Di rompere gli spazi. Sì, e quindi cerco di creare degli shock. Quindi lo faccio per come mi viene in quel momento ovviamente, ma cercando di spostare l'attenzione da una cosa a un'altra, tornando indietro, andando avanti anche temporalmente, usando tecniche diverse. Magari improvvisamente gli chiedo se gli va di fare l'ipnosi, oppure torno sulle domande. Quindi mi prendo la libertà di usare tutto quello che mi viene in mente, senza stare dentro a uno schema preciso, perché mi sono accorto che mi irrigidisce troppo. Ok. E quindi in alcune fasi della mia carriera di psicoterapeuta ho avuto dei momenti in cui mettevo in atto dei protocolli o degli schemi, delle robe. Però poi mi sono accorto che non sono io, cioè non mi appartiene a me quella roba lì e quindi io devo fare quello che mi viene. Se mi viene e per come mi viene in quel momento lì. E quindi allora attingono a tutto. Quindi può essere la musica, può essere la scrittura, il disegno, la pittura, il dirti che mi sto annoiando o qualsiasi altra cosa. Mi è capitato di fermarla personalmente, mi raccontava un fatto e dice, hai una bella voce, secondo me devi fare lo speaker radiofonico e questo fa lo speaker radiofonico. No, fantastico. Io ho detto, secondo me c'è una voce bellissima e siamo stati un'ora a parlare di quello alla fine. Cioè non so, non mi ricordo neanche di cosa, qual era il problema che l'aveva portato lì. Però per me questa è psicoterapia. Fare questo, non solo seguire una procedura standardizzata. Quindi quello che tu fai è un iniziale lavoro di calibratura, di sintonizzazione con la persona per avere un'idea che poi puoi modificare, però ti dà un'idea iniziale e poi devi andare a rompergli degli schemi. Rompergli gli schemi, sì, o creare delle, non so come chiamarle, delle visioni, delle angolature diverse in cui guardare, ma in maniera, un po' come diceva Federico, però in maniera un po' scioccante. Sì esatto, un po' dirompente. E ho visto ad esempio che, come scrivo nel libro, le persone spesso stanno o nel passato o nel futuro. Chi ha paura pensa, ho paura che succederà qualcosa nel futuro, oppure il depressione che pensa al passato. Quindi già questa discriminante qui mi orienta un po' su dove andare a parlare e cerco di spostarlo da lì. Se sei sul passato ti porto di là, se sei sul futuro ti porto di là. Cerco di fargli esperire qualcosa di diverso da quella che è la sua tendenza, come se fosse un vizio, come se lui avesse il vizio di stare nel passato. Allora, per fargli vedere che può anche non stare solo lì, cerco di farglielo vedere, sentire in vari modi. Poi magari provo in un modo, vedo che non attacca, ne uso un altro. Non hai mai usato la parola tentate soluzioni, nel senso che non è più qualcosa che ti appartiene, non lo fai con la finalità di interrompere le tentate soluzioni sfunzionali, che è una cosa che l'approccio strategico è principale o lo fai? Lo faccio, ma cerco di evitare di usare i termini che sono proprio di questo approccio. Ma non perché non riconosca questo approccio la legittimità che ha, ma perché non credo che debba esistere un copyright nella psicoterapia. E quindi penso che ognuno di noi possa inventare dei modelli, degli schemi, dare dei nomi diversi. Bernardo prima ha parlato del suo modo di categorizzare, non so se è un termine giusto, la persona che appartiene a un certo tipo di club, ad esempio. Lui usa quella, io posso usare un'altra, qualcuno le può chiamare tentate soluzioni, ma per me non voglio uscire dall'idea di dover nominare o avere delle nomenclature troppo condivisibili. Non mi interessa questo, mi interessa dare una pasta madre allo psicologo che possa poi lui decidere che tipo di pane fare con quel lievito. Quando rompi lo schema, riorienti la persona, come si dice, con una direzione in testa, quindi voglio farla andare lì, o lasci che si riorienti da sola? No, io credo che già l'interruzione dello schema porti inevitabilmente a una riorganizzazione che mediamente è migliorativa. Poi non sempre è migliorativa, a volte è peggiorativa. Ma magari anche nel peggioramento c'è poi un'utilità, come sappiamo, insomma le tecniche paradossali ci insegnano che anche nel peggioramento c'è il miglioramento e quindi si utilizza un po' tutto ericksonianamente e quindi creare lo shock produce comunque un cambiamento, produce comunque un'inevitabile procedura di modificazione di quello che è il sistema attuale. E da lì poi spesso le persone fanno da sole, non c'è bisogno che te dai una direzione ben precisa, anche perché sennò sarei io che un po' presuntuosamente, è come se io decidessi dove deve andare questa persona, quando invece magari quella persona lì vuole andare da un'altra parte, oppure non è compito mio dire dove deve andare questa persona. Io mi disinteresso completamente di alcuni aspetti della vita delle persone, perché proprio non perché non mi interessa la persona, perché non è qualcosa che mi sta chiedendo e quindi in quel momento lì non mi interessa andare a scovare lì, a meno che non mi venga lì per lì il guizzo di andare insieme in quel momento però a toccare alcune tematiche che possono poi a loro volta sviluppare nuovi progressi. Ok, ho visto che stai anche, ho visto che stai anche poi facendo delle formazioni per esempio con Luca, con Gennaro, stai anche portando avanti quella parte, la parte di, poi il libro che è un libro di self-help, stai anche portando avanti quella parte, la parte di aiutare le persone non con la terapia strettamente, ma anche con la formazione. Sì, quello è un po' un mio grande contrasto, cioè da una parte sono molto attratto da quel mondo della formazione, del fare eventi in cui si parla di queste cose, dall'altra parte ho una sorta di rifiuto, quindi vado molto a giornate, cioè c'è la giornata in cui sono preso bene, che ho voglia, sono felice, entusiasta, energico di farla, altre volte che non c'ho voglia per nulla e quindi anche lì, sai, il bipolarismo è una malattia grave. Non vanno curate tutte le malattie? No, infatti, basta saperci convivere in un certo modo. Io credo che onestamente la categoria degli psicologi, dico sempre un po' scherzando, ma fino a un certo punto siamo una categoria un po' di disagiati e quindi ognuno di noi ha evidentemente delle problematiche che l'hanno portato ad approfondire o entrare dentro, se non altro, l'idea di scegliere di studiare queste cose, perché chi te lo fa fare, se ci pensi bene, a 18 anni andare lì a studiare perché le persone stanno male, in che modo stanno male e quindi nel momento in cui fai un po' pace con questo discorso qua e inizi a utilizzare anche i tuoi disturbi a favore di quello che fai, tutto sommato diventa anche divertente. Fantastico. Ti chiedo l'ultima domanda che ho fatto a tutti, quindi la devo fare anche a te, ti farai un sacco di altre domande in realtà, però anche qui ci sono i tempi. Immagina che dei colleghi ci ascoltano e tu gli vuoi suggerire un esercizio da fare nella vita quotidiana che gli possa essere utile per allenare un talento, una capacità, un qualcosa che poi si porteranno nella psicoterapia, quindi gli sarà utile all'interno della psicoterapia. Credo che la cosa più importante in assoluto sia guardare le scarpe alle persone. Che cazzo non ho fatto, ovvio no? E questa è la prima. Poi potrei suggerire altre due cose se posso, invece di una, è quella di passare almeno un giorno al mese senza parlare. Fantastico. E quindi in mezzo alle persone, però non da soli. Quindi passare una giornata in giro guardando e esercitare così l'osservazione. E quindi passare una giornata così a guardare gli altri senza, vai su un treno, vai, fai un viaggetto, un giro, vai in una città, in una piazza. È una cosa che hai fatto, peraltro, l'ho letta. La faccio spesso. Forse mi hai detto, l'ho letta. Sì, la faccio spesso. Quando ho del tempo libero parto, vado e sto in silenzio, senza cellulare, senza niente, e osservo le persone. Da lì puoi, a mio avviso, sviluppare la capacità osservativa necessaria per entrare in sintonia con le persone. Perché questo penso, e mi sembra di aver capito, che tutti abbiamo ripetuto e detto che è un elemento fondamentale. ascoltare e osservare bene le persone nel nostro lavoro è fondamentale, a prescindere poi dall'approccio che usiamo. E quindi avere questa capacità di osservazione, anche ossessiva, se vogliamo, è un esercizio, a mio avviso, fondamentale per poter fare bene questo. Ok. E ce n'era un altro? O mi ricordo male? Ma forse sì, ma me la so scordata. Ricordarsi le cose. Ok, Gerry, fantastico, fantastico. Grazie mille. Grazie a te. Abbraccio male. Ragazzi, ragazzi, grazie mille. Io mi sono divertito un sacco, ho imparato un sacco di cose con Gerry, con Bernardo, con Jenna, con Federico. Spero che sia stato lo stesso per voi. Grazie veramente, perché sono anche speciale, un po' emozionante, almeno per me, farlo, fare questo davanti. Di solito siamo io, intervistato, Federica, tre telecamere e stop, invece a volte c'è anche Federica, c'è Skype. Quindi grazie e che dirvi, non vi devo vendere niente, quindi alla prossima, andate in pace e ciao. Grazie. Grazie.